Beer and Food Attraction 2019, siamo allo stand della Warnsteiner e ci troviamo in compagnia dell'amministratore delegato Luca Giardiello. Buongiorno Luca e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Perché Warnsteiner qui a Beer Attraction 2019? Beer Attraction è un palcoscinico importante nel mondo della birra e del beverage in generale. Noi abbiamo deciso quest'anno di essere presenti perché vogliamo proporre una novità importante. La novità che proponiamo quest'anno l'abbiamo chiamato Warnsteiner Concept Pub, che è un'idea innovativa di connubio tra birra, cibo e design. Ecco, prima ancora di parlare nel dettaglio di questo nuovo concept, perché appunto non si tratta di un prodotto ma di un concept servizio. In un minuto cerchiamo di fare la storia di Warnsteiner. Benissimo. Warnsteiner è una società che nasce nel 1753 in un paese che si chiama Warnstein, da una famiglia Kramer che ha una passione importante nel mondo della birra e da nove generazioni produce la stessa birra di qualità. Pensate, nove generazioni consecutivamente alla stessa famiglia. Poi nell'arco dei decenni ha allargato il portafoglio prodotto da Warnsteiner che è una Pils alle birre bavaresi a Marchio König Ludwig che hanno una storia importante, hanno dato anche un re in Bavaria. Abbiamo le birre Els e tutte le birre di specialità. A fianco abbiamo Oberbräu, che è un'altra birra bavarese, una birra belga Paterlinus e un'inglese Twaits, quindi un'ampia gamma di prodotti. E quest'anno dunque avete deciso di presentare un nuovo concept di servizio ai birrifici, ai pub, a tutti coloro che fanno somministrazione al pubblico. In un minuto spieghiamo dettagliatamente di cosa si tratta. Bene, il Wasteiner Concept Pub è un concetto che ha la finalità di dare servizio ai gestori dei locali. Il servizio a 360 gradi che riguarda la proposizione di una birra di qualità premium all'interno di un design. Con noi collabora un architetto danni molto importante nel settore e dà la possibilità, come qui vediamo, di creare un pub con un design che valorizza la nostra marca ma è funzionale ed è fondamentale questo nella gestione normale di un pub. Accanto a questo forniamo anche un servizio nella qualità della carne. Abbiamo incominciato una collaborazione con la società BBQ GIC, che proprio in questo momento sta facendo delle sessioni di show cooking in cui si presentano prodotti di BBQ e grilling pur non avendo carbonella e pur non avendo la strumentazione per il grilling ma una strumentazione normale di cucina in modo tale che si possa fornire un prodotto di qualità carne abbinata alla birra in modo semplice con strumenti normali di cucina. Molto bello da vedersi eh? Assolutamente e anche da provare ad assaggiare per chi vuole e questa possibilità può essere offerta poi normalmente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane perché questi collaboratori saranno con noi e noi potremo offrire a chi vuole questo servizio design, cucina e birra. Questo è il nostro abbinamento. E allora per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri avere maggiori informazioni rispetto a questo nuovo concept che è del tutto innovativo perché non si tratta di franchising. C'è un indirizzo di posta elettronica a cui potrei scrivere senza alcun impegno per avere maggiori informazioni? Assolutamente. l'indirizzo è varsteiner.it. Siamo a disposizione di qualsiasi gestore di locale, distributore che è interessato all'offerta di questo servizio di 360 gradi che diciamo in questo momento in cui il servizio fa la differenza pensiamo di portare un valore insomma sul mercato. Grazie per la disponibilità Luca Giardiello. Amici noi continuiamo.